Pronto, buongiorno, sono Chiara Bovio di Impresa Lab. Volevo confermare l'appuntamento di oggi alle 15. Ok, perfetto, d'accordo, oggi pomeriggio, buongiorno. Impresa Lab nasce a inizio 2011 e nasce dall'esperienza di Isabella, mia e di un'altra collega per realizzare questa nuova avventura del mettersi in proprio. Ciao Angela, sono Chiara, sto arrivando in ufficio. Appena sono lì riesco a vedere le mail, così riusciamo a chiudere la rendicontazione del progetto. Ok, ciao, a dopo. Impresa Lab si rivolge in particolare a PMI, a centri di ricerca, che hanno progetti di ricerca e sviluppo che possono essere finanziati o comunque possono partecipare a bandi di finanziamento europei, nazionali o regionali. Ciao Isa, siamo pronti col progetto oggi che apre la presentazione per il bando europeo? Ci siamo, lo possiamo presentare. Impresa Lab di fatto offre un servizio che è articolato in due macro tipologie. Una prima è quella di presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo per l'ottenimento del finanziamento e una seconda tipologia è quella dell'assistenza, la rendicontazione dei progetti finanziati per la finalizzazione e l'ottenimento definitivo del finanziamento. Grazie a tutti.